figlio di cacata salve a tutti amici di minecraft guarda mio fratello bricio volo ci siamo prese le asci diamanti per giustamente per finire il tetto di questa struttura quindi sarà un video giustamente attacca e stacca quindi il tempo è giustamente faremo l'impalcatura faremo tutto il resto quindi a dopo ragazzi pirla ragazzi abbiamo ucciso proprio ora un enderman aspettate quando ci sono più altri ci ritorniamo andiamo a dormire abbiamo deforestato tutto l'ambalatrante guardate che cosa è rimasto ah abbiamo potrebbe accato a tre quattro ore allora Ok, vabbè poi ce la facciamo, allora facciamo tutte queste cose, il legno è il legno, Infine, iniziamo tutta la struttura... per me ok 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 c'è il mio padre lo sai cosa in città ieri ancora non siamo riusciti ad andare nel copo a portare il led beh cosa dobbiamo fare? faccio stasera ragazzi ok quindi indossa l'armatura allora con le indiamante mi do allora posso tutto questo non c'è non c'è non c'è non c'è ah mi sono beccato vabbè poi cosa interessante non c'è possiamo andare a dormire no no che vuole dormire andiamo in giù ok allora ci diamo gli zombie con la strada in pietra non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è e via perciò al cuore aiutare aiutare lascia la scuola aiutare porta una spada in un pietro non non serve, è il cibo oh mio dio, un limone ma l'intento deve sapere io sono l'asso ma è enderman, non lo vedo non serve non serve non serve oh vai oh mio oh mio oh mio oh mio grazie scappa no allontaniamoci dalla casa ma che già ho un paio di paese oh 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 vedendo ha distrutto il mondo qua oh l'inizio 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 il rischio che ricordiamo per il il l'inizio 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 vieni con me, vieni con me vedo un mini zombie con l'armatura di nora ma quando mai oh mio dio oh mio dio guardate quanto sono questi piccolini non ci ha droppato la mini armatura di nora oh cacchio l'interessata tante lo preso l'aspirato vince domenica la sotto e ce n'è uno dopo la sua guarda non lo vedo vieni io ce l'ho grazie a un bug azzolo dov'è? a a a a a a a a l'interno 8 ecco facciamola esplodere la l'arco per te giocatore della botte dalle del bar la tua e del bar io sono il portato l persino dove sei? da quel lato, dal lato della barra dalla barra dove c'è il ma andiamo a cercare gli indori si ma io siamo nel loro famigli oh mio dio che è stato buppo dove sei? chi dove deve sapere? dov'è? non lo vedo più che non era qua torna già non mi dira pesca bassa questa è la montagnetta che ho scavato io per andare a casa vince dai torniamo a casa aspettiamo un'altra notte si dai ragazzi riprendiamo ci vediamo dopo alla seconda ondata ehi ragazzi ma vi ricordate questo posto qui? dove c'è stata una grande boom baby guardate qui allora ragazzi non voglio fare un'altra lotte a casa ma vogliamo lottare qui così almeno se si distrugge qualche cosa non me ne frega niente di quello che succede quindi appena arriva la sera grazie attacchierami il video a dopo allora ragazzi stiamo uscendo da casa per andare a cercare di andare la già ne vedo dopo e già si incazzata anche con me non c'è la spade diomante dopo 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 questo è il firelight che non ci fa nero nero si si altri due altre due ragazzi a st vieni vieni dove e questo eh mio fratello come sta? a vederlo vado io ho salvato le chiacchie ma io ho salvato le chiacchie siiii altre tu ce l'hai? no ne manco io forse adesso ne ho io sì ne ho una perché mi salto tanto il colpo finale è meglio che ne ho io vediamo se c'è qualcosa qua, mi conviene che il colpo finale io lo do io proteggimi non è vero non è vero non è vero non sarà la spade di diamante per gli zombie o queste cazze di amici non sarà la spade di diamante per gli zombie o queste cazze di amici non so magari più che adatto per i creeper va bene cos'è un altro ce lo sto dicendo ma poi ce ne sono un cazzo si facciano un altro altri ma ci due sono oh ma io volo tre cuori tre cuori tre cuori aiuto figlio di cagata non c'è solo no io pure infilati dentro il posto salvaggio veloce vado nooo se la devo recuperare i cuori ragazzi non so se vi piace questo video di quanto ci stiamo impegnando per uccidere questi cavoli di enderman oh mio dio dentro il posto c'è una popolazione oh 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 non c'è non c'è giochi ma io aspetta ma beccan a posto bing 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 se non vedo i pollici in su su questo video io non ne faccio più bing bing uno va troppo di caschetto cerco enderman please please enderman non c'è tu ne vedi no poco fa c'era la popolazione di enderman quante palle di enderman hai? uno piotto oh ma sti zombicini rompono le palle one ha non non davis mill p ang pre ma contesto tecnico ợi martin buon il eur buone la maionazza corri , scappa e nene e chi è ha un giorno li chè ti sei quiete perchè fiè in capodanno beppe che ha il brutto figlio di tua madre che mi sto facendo? maa Enderman! Enderman! dove 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 aia, vaffan cuore mi stanno facendo saltare in sedere! eh, dove, 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 dove è una dieci che hai tu e più quanto non abbiamo a casa ecco sei un limone! voglio la tua testa che mi ha toccato dietro oh cacchio un limone! piccolo i tuoi genitori ti stavo dietro lo so lo so scusa 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 vediamo se nel prossimo episodio andremo giustamente come si chiama? Nel End! Nel End! quindi per questo episodio è tutto da me e mio fratello Viciolo nascosto dirlo la porta è tutto ciao a tutti ciao ciao ciao